Il Movimento 5 Stelle torna sul caso dell'IBC, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, al centro dell'attenzione nelle scorse settimane per alcuni presunti casi di assenteismo, denunciati da una trasmissione televisiva. Il caso aveva portato, tra l'altro, alle dimissioni del presidente dell'Istituto, Angelo Varmi, ed è dedicata proprio alla nomina del suo successore la proposta presentata dalla capogruppo del Movimento in Consiglio regionale, Raffaella Sensoli, e dal consigliere Andrea Bertani. Queste nomine siano trasparenti, siano fatte coinvolgendo la società civile e non vengono fatte a tavolino per accontentare o per rimediare gli equilibri all'interno del partito di maggioranza. Per ottenere questo risultato, il Movimento 5 Stelle chiede che si segua un iter preciso. Una richiesta pubblica di candidature di 30 giorni in cui raccogliere curriculum e proposte fatte dalla società civile all'interno dei quali puoi scegliere la figura che sarà e avrà il ruolo importante di nuovo presidente dell'Ibc. Se questa proposta dovesse essere respinta, concludono Bertani e Sensoli, i 5 Stelle sono disponibili a raccogliere direttamente le candidature per portarle in aula già la prossima settimana. Grazie a tutti.